Come the long-expected Jesus, All to set my people free, Come of his and sins in Jesus, Let us find the rest in me. Se fossi in voi pregherei molto! Poiché il suicidio è rinuncia, E la rinuncia è una vile bestemmia da inventare a morte! Cosa è meglio dunque? La sentenza plebea di una ripugnante mediocrità collettiva? O il folle istinto di noi eletti da noi ad eleggere Dio? Una iperbole esplicativa? Se Pinochet merita la prigione, Come condanna sociale dei suoi presunti misfatti, Fidel Castro merita il suicidio Per espiare il fatto stesso D'assernato! Dio! 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 Da! Dio! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.